Voglio sottolineare il fatto che Fabio è sempre stata una persona buona, correttissima, altruista e quindi volevo essere testimone di questa situazione. Nel settembre del 2015 ho avuto occasione di conoscere la povera Roberta a Vasto Marina e aveva bisogno di un passaggio. Per fidarsi ho dovuto dimostrare che conoscevo Fabio e lei ha accettato il passaggio solo ed esclusivamente con il casco fortemente allacciato.